Qui c'è il capitano Spinelli, sei tornato dopo qualche giornata di assenza, fascia da capitano e sei tornato a dar manforte ad una difesa sempre più solida. Siete dalla Serie A alla Serie D l'unica squadra a non aver beccato gol. Sì, durante la settimana con il mister lavoriamo molto sui nostri concetti e siamo felici di continuare così. Nella ripresa, proprio all'inizio della ripresa e anche nel corso del secondo tempo il Tivoli, soprattutto dopo aver subito il gol, vi ha messo un po' lì in difficoltà ma era ovvio anche, era giusto. Sì, noi abbiamo speso tanto all'inizio della partita, durante la partita per cercare di far gol e poi siamo stati bravi comunque a tenere botta quando loro sono usciti fuori, però siamo contenti che abbiamo tenuto botta. Prima abbiamo sentito il tuo mister, la forza del gruppo, potremmo sintetizzare così questo chieti di inizio campionato? Sì, da inizio stagione è sempre stata la nostra prerogativa essere un gruppo compatto, unito, dare una mano al mister e a tutti e continueremo a farlo. Tutti utili ma nessuno indispensabile? Certo, certo, durante la settimana, durante la domenica dobbiamo essere tutti pronti perché abbiamo un obiettivo unico tutti insieme e cercheremo di raggiungerlo. Senti, siete stati a lungo sotto la curva Volpi a ricevere l'applauso dei vostri sostenitori? Sì, sono meravigliosi, sono sempre con noi in ogni momento, in ogni situazione, noi stiamo dando tutto, tutto con noi stessi per renderli felici e li ringrazio perché sono sempre al nostro fianco. La classifica l'avete vista? Siete lì in cima da soli? Sì, diciamo l'abbiamo vista ma non l'abbiamo vista, adesso dobbiamo pensare da martedì a preparare la partita e pensiamo partita dopo partita.